La figlia di Ciarcialle 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 ma insomma che gradiamo tutti. Ebbene, a questa immagine inevitabilmente è legato il primo capitolo, l'ho già detto, quello degli antipasti. Per passare poi oltre, naturalmente cari amici, non sto a fare bene l'elenco. Io che sono sempre molto curiosa e ho letto il libro, però vogliamo svelare anche qualche curiosità e tanti telespettatori che ci staranno seguendo. Diamo anche qualche indicazione sugli antipasti. Vuoi anche dire quelli che sono i tuoi antipasti preferiti della cucina tradizionale vastese? Sì, io ho piacere che tu mi interrompa per il semplice motivo che ogni tanto do la sensazione di essere un po' ostinato su certi percorsi, per cui se puntualizziamo nei confronti di chi deve godere della trasmissione, è bene sapere che per esempio come primo piatto relativo agli antipasti c'è diottonerie crude di mare. Qua sarebbe il caso di aprire un discorso sul gusto del vastese, che non ama molto il pesce crudo. Ad ogni modo, siccome anche questo capitolo merita attenzione, ma mi risulta che in antico c'era una buona disposizione del vastese per i cannolicchi, per un certo tipo di cozze assieme alle vongole, per il riccio di mare che addirittura in tempi andati, devi sapere Paola, si mangiava, anzi si beveva al cucchiaio, si spaccava in due e con un cucchiaino della stessa misura si riusciva a tirare fuori questo saporitissimo frutto con l'aggiunta di una goccia di limone o addirittura allo stato naturale. Quindi ho accontentato la tua curiosità. Però c'è ancora un'altra domanda che voglio farti, scusami se ti interrompo. Io ho notato che con grande attenzione dai a tutte le persone che leggono questo libro delle informazioni in merito non soltanto agli ingredienti, al tipo di pesce da preparare e come prepararlo. Questo significa che tu sei anche un bravissimo cuoco, oppure no? Ma in effetto, devo dire che chi si avvicina ad un argomento del genere qualche nozione la deve avere. L'effetto qual è al quale mi riferivo? L'effetto è il risultato immediato. C'è un amico che magari sta guardando in questo momento la tua trasmissione, il quale mi ha confidato, ma addirittura sottovoce, ma lo debbo dire perché la tua curiosità è insaziabile, mi ha confidato, ma proprio sottovoce, quasi vergognosamente, sai che ho preparato cinque panocchie dentro una teglia di creta, ci ho messo sopra la carta argentata e ho rifatto quello che ho visto anche in televisione durante una delle vostre trasmissioni. E com'è venuto? E continuavo a parlare, a parlare, a parlare, e com'è venuto? E continuavo ad allungare il discorso. In ultimo, non ho resistito, ma mi vuoi dire com'è venuto questo piatto? Squisitissimo. Mi ci hai fatto pur una fazzatella di macaroon. Che cosa devo dire di più di tanto? Questo è in sintesi il contenuto della risposta che ti avrei dovuto dare in termini testuali, ma che insomma... È una testimonianza che mi fa veramente molto piacere, anche perché io sono la prima che appena torna a casa e all'occasione subito cerca di riproporre in famiglia gli stessi piatti che ho imparato durante proprio le nostre registrazioni in giro per i vari locali. A proposito, abbiamo parlato degli antipasti, poi c'è anche una sezione dedicata ai primi e ai secondi e quella che io preferisco è quella dei dolci. Dolci a te anche molto cari. Per l'ultima parte della tua domanda, sicuramente ci saranno amici che saranno soddisfatti, anzi, diciamo sazi, se mi consenti la finezza linguistica, sa tolli nel prosieguo delle tue trasmissioni perché vedranno delle belle immagini, soprattutto in occasione del Santo Natale e che abbiamo preparato per loro. Ma al di là del tuo appetito per i dolciumi, siccome hai fatto precedere la chiamata in causa del secondo capitolo, quello dei primi... Possiamo anche parlare dei primi e dei secondi. Io sono andata subito al dolce perché è uno dei piatti a cui non rinuncio quasi mai, piuttosto rinuncio a un primo o a un secondo, ma al dolce me lo concedo quasi sempre. Questa non è soltanto curiosità, ma è anche voracità, almeno per l'ultimo capitolo. Cari amici, l'ultimo capitolo è quello dedicato appunto alle confitterie, come si diceva una volta. Ebbene, intanto prima di lasciare il capitolo degli antipasti, ti consiglio un piatto succulento che solo pochi sanno fare. Io l'ho intitolato cozze gialle, che significa, cari amici, che si tratta di preparare delle cozze nere, come sapete fare voi, soprattutto voi donne di casa, voi siete esattamente la personificazione della gastronomia vastese, con l'aggiunta, naturalmente non sto a dirvi secondo quali modalità, di un altro prodotto della nostra bella terra d'Abruzzo. Bella terra d'Abruzzo che in altre circostanze la Paola sa benissimo come ho criticato, è lo zafferano. Passiamo dunque ai primi. Intanto anticipo, ma poi ci penseranno le immagini come sempre, che ho ritenuto di dare simbologia a questo capitolo con i Mangio Maccaroni. Stavolta si tratta proprio di un disegno di Filippo Palizzi. A proposito, questi disegni che vedete, che sono poi stati acquerellati, una volta stampati, sotto forma di acqueforti, nel libricino sono riprodotti soltanto graficamente, mi spiego, non sono le acqueforti, sono i disegni preparatori per le acqueforti, che come abbiamo assieme a suo tempo annoiato, e cioè nella occasione in cui abbiamo parlato della realizzazione dell'acqueforte, rappresentano le stesse una stampa, un tipo, una varietà di stampa dell'Ottocento, e chiudiamo qua il discorso tecnico. Mangio Maccaroni, non c'è bisogno di aggiungere nulla all'immagine che vedete. Il capitolo relativo ai primi dunque, parte ovviamente dai Maccaroni alla chitarra, è qua, è inutile ricapitolare, però ci sono i cavatelli con la pescatrice, i Maccaroni alla Molinare, che tu conosci molto bene e di cui credo che ogni spettatore abbia assorbito le belle immagini di Nicola Di Lallo a suo tempo mandate in onda. Gli spaghetti, aglio, olio e peperoncino, questo è un piatto che tu sicuramente preparerai con grande facilità. Fusili e la marinara, lasagnette e favoli, ma questa è una definizione soltanto per chi non è vastese, perché noi questo piatto lo chiamiamo Sagnetelle Pilius in dialetto vastese, ortodosso, per andare avanti con tutti gli altri tipi di primo che non voglio assolutamente allungare più di tanto. La terza parte che riguarda i secondi l'ho simboleggiata con la raffigurazione del disegno per Acquaforte che si intitola Il Capraio. Anche questo disegno è di Filippo Palizzi. Voi naturalmente attraverso le immagini lo ripeto ancora una volta lo vedete a colori e cioè sotto forma di Acquaforte acquerellata. Qua, cara Paola, non mi posso dilungare perché ci sarebbe soltanto da leccarsi le dita, dai poli più affogati e le poli ben bregato orrieta. Piatto proprio tipico della nostra tradizione. naturalmente preceduti tutti i piatti del capitolo dal brodetto alla vastese sul quale tu sicuramente dovrai dire qualche cosa. Brodetto sul quale diciamo abbiamo sempre puntualizzato le nostre conoscenze anche e devo dire che mi ha particolarmente colpito non soltanto una tua premessa in questa magnifica pubblicazione in cui racconti proprio la leggenda di un pescatore. Io già la conoscevo perché mi avevi dato proprio la possibilità nel corso di una nostra registrazione proprio dedicata al brodetto di poterla leggere. Questa volta io voglio ricambiare il favore vorrei che fossi proprio tu a leggere questa magnifica storia magnifica leggenda del pescatore che racconta proprio come sia nato il brodetto. Questo è un autentico supplizio ma all'altra parte non mi posso rinunciare se non sottoponendomi appunto alla tortura. Assolutamente una tortura per me è stato un piacere però sono sicura di non aver dato il vero senso di questa magnifica storia quindi sentiamo da chi sa leggere veramente stai tentando di forzare la mano perché sai benissimo che sei molto più brava di me ad ogni modo bando i convenevoli io vorrei dire cari amici che mi sono inventato questa leggenda semplicemente perché non credo di essere più vastese degli altri ma certi sentimenti si possono coagulare soltanto in vista di un sentimento che ovviamente sconfina nella passione e allora si racconta ho raccontato sotto forma di leggenda che un pescatore povero d'altra parte partiamo sempre da questo da questa base e cioè la fame antica del popolo perché se parliamo di tradizioni popolari assolutamente impossibile cambiare riferimenti soprattutto se parliamo di tutte le sedimentazioni di carattere culturale sociale economico e via dicendo ad ogni modo tanto per non allungare il brodo un pescatore povero e la sua famiglia che secondo la leggenda stessa erano accampati in una primitiva casupola del trave tutti quanti conoscono la zona del trave se vogliamo essere precisi e ricollegarci appunto al titolo del libretto si tratta del primo trabocco partendo da vasto marina e andando verso nord ebbene la famiglia del pescatore povero come naturale stentava l'esistenza fra orto e riviera perché il traboccante antico è stato anche definito antropologicamente in maniera azzeccatissima questa volta non da me il pescatore di terraferma c'è qualcuno che si è anche offeso di questa espressione di questo appellativo ma noi proseguiamo imperterriti un giorno in cui la pesca risultò particolarmente abbondante la moglie del pescatore povero vuole apparecchiare la mensa in modo insolito il consueto pesce di costa cioè quello formato di piccoli esemplari questa volta vedeva la presenza di alcuni buoni esemplari e qua mi sono permesso di usare il corsivo per l'elencazione un'altra area e cioè scampetti di sabbia che da vivi in mare è difficilissimo prendere dunque al ritorno dal suo faticoso lavoro quotidiano il pescatore trovò il coccio colmo di un intingolo dal gradevole profumo e dal seducente colore questa volta rossastro era successo che sua moglie per la prima volta ma sarebbe meglio dire per arricchire il quasi sempre misero desco aveva pensato bene di cuocere quella perpetua cioè una sostanza di tutti i giorni aggiungendo qualche prodotto dell'orto di casa come se si trattasse di una mangiare di un desinare da sogno ma a causa della carestia dei tempi fu costretta ad essere molto parca dovette usare cioè i preziosi ingredienti a disposizione in maniera molto misurata fu così insomma che al pesce pulito aggiunse come sempre acqua di mare sotto forma di sale l'olio qualche rametto di prezzemolo non ancora il basilico e pochi spicchi d'aglio con quei frutti rossi che all'epoca non si sapeva non si sapeva come chiamare frutti rossi tondeggianti che qualcuno riteneva addirittura velenosi ma insomma siccome era un prodotto che arrivava dalle lontane americhe c'era qualche sospetto insomma concludendo avvenne che la numerosa famiglia del pescatore povero sicuramente per la prima volta desinò a sazietà questo è assolutamente indubitabile ma ciò che risultò più gratificante fu la delizia dei palati perché senza saperlo la moglie del pescatore povero sto leggendo come se fosse una vera fiaba inventò il brodetto alla vastese perché da allora quegli ingredienti e quelle semplici modalità dovete sapere cari amici carissime amiche non sono mai mutati per la verità è proprio perché stiamo parlando di fiaba di lì a poco il brodetto ma diciamolo in termini dialettari louvrudat subì un brusco e delizioso salto di qualità la moglie del pescatore povero ricca però di inventiva decise l'impiego generoso questa volta indovinate un po' del peperoncino piccante spezzettato fresco se no come avrebbero fatto a vivere felici e contenti è magnifica questa leggenda questa fiaba poi in questo periodo ancora di più diciamo ci colpisce un'altra curiosità che mi è piaciuta prima della curiosità ti devo interrompere non è l'ultima perché c'è sempre da aspettarsene un'altra l'hanno già copiata questo è un vero peccato però noi sappiamo chi è l'autore quindi insomma volevo dirti un'altra cosa che mi ha colpito molto di questa tua pubblicazione il glossario perché mi è piaciuto molto scoprire che hai tradotto siamo questo termine quelle parole del dialetto tipico vastese per permettere anche immagino ai tanti turisti anche alle persone che non sono vastesi di capire quelli che sono i termini che noi siamo solitamente per indicare alcuni prodotti o alcuni tipi di pesci in modo particolare il glossario costituisce una piccola presunzione se vogliamo perché oggi come oggi sai benissimo fra l'altro le nostre comunicazioni mia e tua sono sempre originate poggiano sempre sui due baluardi riguardanti la linguistica e la gastronomia qualcuno molto più raffinato di noi ha definito questo accoppiamento una delle categorie della modernità qua stiamo parlando di alta cultura culinaria ma non è roba nostra lo ripeto ancora il glossario perché è una piccola presunzione perché chi conosce il vastese appare presuntuoso al momento in cui lo scrive vi spiego un dialetto dal milanese al romagnolo al genovese al napoletano e via dicendo non è possibile leggerlo correttamente se non si è in grado di scriverlo altrettanto correttamente io mi sono sforzato di fare questo in fondo al libretto e se ci sono riuscito bisognerà che lo dica il lettore però vorrei concludere con il discorso relativo ai contenuti perché ho trascurato il capitolo dei secondi di cui abbiamo parlato soltanto per l'inizio mettendo sempre come capoverso grafico un'immagine bella che riguarda la carne e il pesce e cioè la prima del capraio di Filippo Palizzi la seconda sempre di Filippo Palizzi il venditore dei capitoni molto illuminante per proseguire proseguire poi con il conclusivo capitolo che riguarda i tuoi gusti e cioè i dolci qua l'immagine che fa vedere la regia è ultra illuminante si tratta di un disegno quindi di un acquerello dopo che è stato trasformato lo ripeto ancora in acqua forte intitolato L'Ovaiola e cioè è una delle mie preferite perché diciamo che mi hai anche trasmesso questa passione per i Palizzi e per le Acqueforti in modo particolare quindi non soltanto c'è il connubio perfetto in questa pubblicazione delle mie passioni le Acqueforti di Palizzi e la cucina quindi non so come ringraziarti da lettrice perché secondo me è colpito proprio nel segno e tra l'altro devo dirti che mi ha colpito anche molto quella fotografia del trabocco di località Trave una foto molto molto bella molto suggestiva faccio un passo indietro e ti do ragione per il semplice motivo che questo trabocco appartiene anche a te una rarissima immagine del trabocco di Punta Trave sai benissimo ricordi benissimo di avere condotto una trasmissione interessantissima sotto molti aspetti proprio su questo trabocco io ho riprodotto questa immagine perché ne sono proprietario però si tratta di una scarna scarnissima immagine del 1913 fotografia di Luigi Anelli e qua ti prego di non intervenire perché il tuo complimento non arriva a me ma arriva proprio al nostro nome tutelare oggi questo trabocco è completamente trasformato ma nel testo chi si interesserà leggerà anche la storia di questo trabocco vino ci o no no vabbè se devi dire qualche cosa intervieni pure no no purtroppo il tempo è quasi concluso però insomma sentiamo qualcosa sui dolci perché sono molto curiosa lo sai allora per i dolci posso fare una dedica il capitolo è interamente dedicato alla presentatrice attraverso le belle immagini del banditore divino che non c'entra niente ma soprattutto dello scrivano pubblico e di un risvolto che non è di Filippo Palizzi questa volta ma addirittura di Carlo Martorana e che si chiama il sorbettiere ambulante io ho finito Pino grazie per averci presentato questa splendida pubblicazione che io vi consiglio anche di acquistare in occasione del periodo natalizio ormai diciamo Natale è alle porte quindi anche un bel regalo che farà felice tantissime persone vi assicuro leggetelo perché vale davvero la pena e provate soprattutto a fare queste ricette a realizzare questi splendidi piatti e invece Pino a te dico ci vediamo presto e aspetto anche con ansia un'altra tua pubblicazione questa volta sicuramente dedicata alla cucina ma vediamo con che cosa abbinerai questa nuova pubblicazione questo nuovo lavoro che farai ti ringrazio grazie arrivederci e le femmine con amore fanno le penne senza sapone sciurano niente sciurano rete sbattano col culo sopra le prete ecco Maglia fa ne ne puzza romandine e gli le tinghe una cosa casempicce casempicce lui parla ecco Maglia fa ne ne puzza romandine e gli le tinghe una cosa casempicce casempicce lui parla Grazie a tutti